Potevano suonare in un posto dove si celebra la cultura nerd C'è stato ispirato e abbiamo creato questa collaborazione Da un gioco che si chiama Zombicide E questa è la nostra Never Done Non so, non so, non so, non so 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 Non so, non so Non so, non so, non so 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 Non so, non so